Amici miei di Verona, questa mia un poco molto Verona, questa Verona romana, perseglieresca, ma si sta nell'anima fino dalla vigilia, con questa maestosa adunato di popolo, accompagnata da uno schieramento superbo di forze, si chiude il mio viaggio tra le genti del Veneto e il mio pellegraggio sui campi sacri delle nostre gloriose battaglie. E' inutile, è inutile che i diplomatici si affatichino ancora per salvare Versaglia. L'Europa che fu costruita a Versaglia, detto con una piramidal ignoranza della geografia e della storia, questa Versaglia agonizza. La sua sorte si decide in questa settimana, è in questa settimana che può apporgere la nuova Europa. L'Europa della giustizia per tutti e della riconciliazione fra i popoli. Caminieri, noi del litorio siamo per questa nuova Europa.